State guardando Deep Session TV, io sono Gengis per l'occasione VJCAN. Con i miei soci della Video Squad vi porteremo a conoscere un po' più da vicino la nightlife, quelle che sono le nuove tendenze, intervisteremo artisti, vi terremo aggiornati sulle nuove uscite musicali e su tutto ciò che ruota intorno alla Deep Session in generale, quindi sedetevi, mettetevi comodi e enjoy! Deep Session TV, no bullshit! Ecco, dalle immagini vi sarete fatti un'idea di cos'è Deep Session, e visto che ora siamo in compagnia di Peppe e Roberto, ovvero gli ideatori di Deep Session, anche conosciuti come Cyber Fan. Ragazzi, lascio la parola a voi, spiegateci come è nato Deep Session e verso dove sta andando questo progetto. Il progetto Deep Session è nato quattro anni fa, poi col tempo è cresciuto molto, abbiamo avuto la possibilità di proporre tantissimi ospiti internazionali come Diplo, Mastercraft, Aytrek, Bloody Beatles, Boys Noise, Aerol Alcan. Stiamo cercando adesso di dare nuovi sbocchi a questo tipo di attività, di situazione, perché è diventata un'attività. Deep Session è nata principalmente con l'organizzazione di eventi. Accanto all'organizzazione di eventi, due anni fa abbiamo lanciato il progetto Podcast, abbiamo tutte le sirate e i DJ set dei nostri DJ registrati, scaricabili gratuitamente su www.deepsession.it, all'interno del quale potete trovare notizie sul mondo eletto underground, contest. Adesso lo sbocco, diciamo, naturale è stato quello di creare la TV. Per chi non sapesse chi è, Gengis è uno dei migliori DJ italiani, è stato campione di MC. Insomma, vi lasciamo nelle mani di un ragazzo che la sa lunga. Ben, enjoy Deep Session TV. I ragazzi, oltre a Deep Session, organizzano Bugged Out, un evento nato a Londra ma presente in tutte le capitali europee. Il 21 novembre siamo stati con le nostre telecamere allo Spazio Roma per il primo Bugged Out dell'anno, dove ospite era Boyz Noise. Boyz Noise è uno dei migliori artisti sulla scena elettronica mondiale. Sentiamo cosa ne pensa il coorganizzatore della serata, Manfredi Romano, dall'agenzia Deiz. Deiz, cioè la mia attività, nasce sei anni fa, è un'agenzia di booking, prevalentemente rappresento artisti che porto in giro per l'Italia. Stasera è una serata speciale perché abbiamo un artista speciale, Boyz Noise, uno degli artisti della nuova scena elettronica, Electro, New Rave, chiamiamola come vogliamo. È uno di quegli artisti che sicuramente rimarranno nella storia perché ha un suono proprio, una personalità. Per questo motivo vogliamo fare eventi come questo. Un evento come questo la gente se lo ricorda. Iniziamo questa joint venture che si chiama Bugged Out Roma che è nata da Deiz, Deep Session. Vuole mettere a fuoco proprio questo tipo di artisti. La parte più facile è adesso, quando l'evento è stato costruito. Ti diverti e cerchi di godere e di far godere la gente di quello che tu hai messo insieme. Tutti noi, penso, abbiamo scelto di fare questo lavoro perché lo troviamo divertente. Se no faremmo il commercialista, l'alpinista, l'informatico. Io sono lavorato in informatica, quindi fai te. Per restare aggiornati e rivedere questa e le prossime puntate andate su www.deepsession.it. Un saluto da Vijay Khan, Deep Session TV. No Bullshit.